Ciao a tutti, nuovo video, lei è la madre, lei è quello rosso il padre e uno, due e tre sono i piccoli, quei due gialli e questo, tre piccoli, sono usciti oggi. Oggi ho disinfettato il nido con una mucchina e acqua, l'ho messo a bagnomarie e ora vi faccio vedere, aspettate un minuto, ecco il nido, l'ha di nuovo costruito, sta dando da fare, lo sta costruendo di nuovo e niente. E mi sa che volevo uscire, furbacchione, vabbè un piccolo, due e tre, belli eh, poi mi vorrei iscrivere alla FOI però ci vuole un bel po', cioè ci vogliono anche i soldi e poi vedremo perché iscriversi alla FOI costa 60 euro. Ehm, ma vi state fermi? Oh, lasciate vostra madre costruire il nido, va bene, ciao, ciao a tutti.